Buongiorno a tutti da Stefano Carrara di Linus e benvenuti a questo webinar nel quale parleremo di tecniche di targeting soprattutto per gli investitori applicate al mondo del private equity, al mondo della finanza. Vedo che vi state collegando tutti quanti quindi mi prendo magari uno o due minuti, vi chiedo il consueto conforto morale tramite la chat, se mi indicate gentilmente se si vede il mio schermo e se la mia voce si sente correttamente mi è fatta una cortesia così possiamo partire rapidamente nella trattazione dell'argomento di oggi. Grazie intanto. Bene, mi arrivano dei messaggi positivi sulla qualità dell'audio. Grazie, benvenuto Giovanni, benvenuto Giampiero, benvenuto anche ad Angelo, benvenuti a tutti. L'argomento di oggi vuole essere un po' un argomento calato nel periodo in cui ci troviamo, ovvero un periodo in cui i bilanci nonostante il decreto recente abbia consentito un allungamento dei tempi di deposito sono disponibili, quindi è un periodo ottimo per fare del targeting, cerchiamo di vedere insieme quali sono le modalità migliori. Bene, io parto direttamente, ricordo a tutti che il webinar è in fase di registrazione che verrà reso disponibile a tutti coloro che sono collegati anche dopo i lavori e vi verrà inviato il link, così come la presentazione che state vedendo in questo momento. Bene, benvenuti ufficialmente, a questo punto iniziamo. Allora, io direi di inquadrare intanto l'argomento di oggi, parliamo di tecniche di targeting e profilazione avanzata per il private equity. Naturalmente abbiamo scelto volutamente un titolo molto dedicato e molto ritagliato su un target appunto di professionisti, un pezzo del mondo della finanza molto rilevante. In realtà l'attività di targeting, questo è il primo concetto che desidero trasmettervi, è un'attività assolutamente utilizzata ed utile anche in altri contesti, vedi quello assicurativo, vedi quello bancario, ma anche vedi quello aziendale stesso e mi riferisco in particolare alle aziende che lavorano con i clienti B2B. Allora, cos'è un'azienda target? Innanzitutto lo definiamo come, o viene definito come un'azienda scelta o da scegliere in quanto diventa o può essere attrattiva per un'operazione di diffusione, di acquisizione da un potenziale acquirente. Questa è una definizione che abbiamo rubato in maniera ignobile al web, ce ne sono tantissime, ma è quella che calzava maggiormente rispetto agli obiettivi che abbiamo in questo webinar. Target vuol dire obiettivo, obiettivo se parliamo di fondi, se parliamo di investitori, per un'operazione di natura straordinaria. Il mondo del private equity, il mondo dell'M&A, della corporate finance, ha proprio nel suo processo originale di ricerca e gestione dei deal dedicato da anni una parte molto importante all'attività di selezione. Vedremo nel proseguo del nostro lavoro che tante volte però questa attività di selezione viene fatta in maniera non del tutto, non dico adeguata, ma non sfrutta tutto il potenziale che i dati e le piattaforme mettono a disposizione. Viene vissuta spesso come una semplice attività di query, un'attività di selezione che mi deve portare a scaricare alla fine una lista di società target che vado ad inserire in un foglio Excel e viene vissuta appunto come un'attività di applicazione di parametri più o meno semplici che vengono incrociati su dati pubblici, poi la maggior parte dell'attività ha valore aggiunto di elaborazione di questi dati che può essere studio un settore perché mi interessa come investitore o studio un segmento perché mi interessa o confronto tre o quattro aziende che sono potenziali target di un'acquisizione. Ecco che questa attività viene generalmente fatta, svolta al di fuori delle piattaforme o dei database che vengono utilizzati per fare target impone perché questi non sono stati generalmente concepiti per svolgere questo tipo di funzionalità. La tecnologia ci aiuta, ci aiuta moltissimo e quindi oggi diciamo che disponiamo di piattaforme che consentono all'interno di uno stesso perimetro di svolgere sia l'attività mera di selezione delle aziende sia anche l'attività poi di analisi perché io credo che il targeting non si esaurisca semplicemente andando ad estrarre una lista di 54 aziende che poi mi vado a guardare su Excel con i relativi bilanci ma sia un qualcosa di più. Allora mi propongo nel corso dei prossimi minuti che trascorreremo insieme di fornirvi anche degli esempi di come questo sia a mio avviso vero e di come questo sia a mio avviso un criterio applicabile e alla fine dei conti utile per tutti. Naturalmente fatemi domande se riesco le prendo in diretta altrimenti le vado a prendere alla fine o addirittura quelle un pochino più complicate se siete cattivissimi oggi le andiamo a rispondere in differita quindi ci verrete per una mail con una risposta se richiede un'articolazione maggiore. Abbiamo fatto un questionario a cui avete il risposto e per questo vi ringrazio per capire appunto chi sta partecipando a questo webinar chi è maggiormente interessato nel mondo della finanza all'attività di targeting. Intanto i profiler coloro che eseguono dei targeting sofisticati quindi la profilazione nell'azienda lo vedete lì appartengono nell'80% dei casi al mondo della finanza di impresa con una prevalenza della corporate finance abbiamo poi una percentuale di circa il 22% sull'attività di M&A fino ad arrivare agli investitori diretti in private equity questo ci aspettavamo perché spesso gli investitori delegano l'attività di targeting mediante dei mandati esterni in alcuni casi invece la svolgono direttamente in altri casi ancora vi convivono le due situazioni nella stessa in capo lo stesso investitore quindi qua direi niente di di nuovo una conferma di un qualcosa che già si sapeva quando andiamo invece a parlare dell'utilità del targeting a quel tipo di di soggetto coltivo di profilo ecco che iniziamo a vedere qualche diciamo qualche scostamento tra le risposte quindi la domanda qual è la finalità prevalente del targeting sulle aziende perché parliamo di targeting non su profili retail ma su profili aziendali la maggior parte ha risposto di voi per analisi di mercato settori e segmenti dell'economia un po confermando quello che appena detto dell'introduzione cioè che c'è ancora una concezione molto molto diffusa per carità non sbagliata ma a mio avviso incompleta coi tempi che corrono dell'attività di profilazione con un'attività di di query generale che va a ritagliarmi dei perimetri poi l'attività che permetterà di passare dalle 150 imprese identificate alle tre che vado veramente a contattare la vado a svolgere al trovo ecco vedremo se riuscirò naturalmente a convincere che non è così che si può fare tutto all'interno di una stessa piattaforma nel caso mio naturalmente parlo di linux ma non è detto che sia l'unica sul mercato in maniera molto è molto trasparente una risposta è la seconda risposta per numerosità è quella che invece vede nel target l'individuazione di controparti per per dm e quindi qua c'è già uno un utilizzo più definito non più mirato della dell'attività di targeting di applicazione probabilmente delle query per dei singoli dei singoli di il quindi nella di un workflow di un processo di mn e che è già definito a monte minoritari invece l'individuazione di aziende per fare investimenti proprio legata al fatto che probabilmente no investment banker o le strutture di investimento oggi hanno ramificato mediante anche collaborazioni esterne questa attività di origination che poi legata all'attività di targeting quali sono gli ingredienti a mio avviso naturalmente per svolgere un targeting efficace questo mi permetto di scriverlo e di dirlo in questo webinar naturalmente facendo leva sugli ultimi dieci anni di esperienza fatta con alessandro fischetti linux sapete che collaboriamo moltissimo con gli investitori con il mondo del private equity e continueremo a collaborare intensificando anche un po la nostra attività con loro ma anche ad un'esperienza previa che abbiamo avuto proprio direttamente nel mondo della delle mn e quindi abbiamo un po la presunzione di conoscere questo mondo sia dal lato di chi fornisce gli strumenti a supporto dell'attività del mondo degli investitori sia chi invece è stato un operatore all'interno di quel mondo quindi per un po di anni si è occupato di operazioni straordinarie di mn e allora mettendo insieme un po questi anni di esperienza abbiamo raggiunto questi questi punti che alla fine sono molto semplici no per fare una profilazione efficace quindi efficace intendo una profilazione che mi generano un buon risultato un buon contributo rispetto alla gestione e alla realizzazione di un deal intanto non ci sono santi che tengano abbiamo bisogno di strumenti e dati aggiornati ed affidabili e so che sembra la frase la palissiana ma in realtà non è sempre così allora cosa vuol dire dati aggiornati ed affidabili pensiamo ad esempio ai bilanci pensiamo ad oggi oggi abbiamo all'interno di linus circa 40 mila bilanci relativi all'anno 2019 su un parco che noi monitoriamo nella versione di linus prima quindi quella generamente usata dal mondo del pavete quindi di circa 300 400 mila no questo è un po in ritardo un numero un po ridotto rispetto agli altri anni e il motivo è che conoscete bene la crisi economica dovuta al coronavirus ha fatto sì che le aziende potessero decidere di ritardare il deposito e bilanci questo è un impatto sull'attività di targeting allora siccome i bilanci sono un flusso che il registro delle imprese infocamera nella fattispecie genera tutti i giorni ecco che quanto più la mia piattaforma sia lino su un'altra sia aggiornata e allineata rispetto a questo flusso tanto più efficace sarà l'attività di targeting soprattutto in un periodo come quello attuale che è un periodo in cui siamo a fine giugno ormai inizio luglio e quindi i bilanci hanno ancora una certa freschezza perché parliamo di situazioni che hanno cinque o sei mesi per cui questo un ottimo periodo per fare targeting attenzione però con periodo in cui da una settimana all'altra posso avere diecimila bilanci che la settimana prima non avevo quindi qualsiasi strumento voi utilizzate il consiglio di fare in modo di intensificare adesso la vostra attività di targeting verificare poi anche gli aggiornamenti che vengono che vengono così portati all'interno della database nel nostro caso abbiamo una gestione che va per flussi quindi una gestione dove carichiamo invece i dati di bilancio che provengono dal registro ufficiali ma abbiamo anche l'opportunità all'utente questo penso che sia molto molto importante di bypassare questa procedura e quindi di andare a verificare in tempo reale se in questo momento per quell'azienda è disponibile un certo bilancio questo è importante perché permette all'utente di non dover aspettare le seppur brevi tempistiche di aggiornamento dei database che mettiamo a sua disposizione quindi adinamento al flusso dei bilanci deve essere il massimo possibile ricordo che i bilanci si portano anche dietro poi delle informazioni non solo numeriche ma anche attività informazioni tipo anagrafico quindi i dipendenti dell'azienda vari aggiornamenti che possono essere stati fatti ai codici a tecno che come vediamo sono un altro elemento molto importante nell'attività di targeting con qualche pericolo secondo elemento e questo devo dire lo trovo veramente raramente all'interno della clientela con cui lavoriamo purtroppo è la conoscenza delle logiche contabili dei bilanci attenzione nessuno si offenda non stiamo parlando della mancanza di conoscenza finanziaria su come si legge un bilancio in quello chi si occupa di private equity di investimenti è assolutamente è campione e ne sa anche più di noi mi riferisco proprio alla conoscenza di quelle piccole informazioni che in maniera silenziosa tutti gli anni vengono aggiornati dal punto di vista dei loro criteri di organizzazione nei bilanci originali che spesso mi portano ad una errata attività di targeting faccio un esempio molto molto concreto un cliente che eseguiva attività di targeting su più di un paese lo faceva andando a utilizzare la presenza di finanziamenti in leasing all'interno delle aziende quindi il suo target tipico era dimmi se sul mercato italiano spagnolo estrai dal mercato italiano spagnolo le imprese che hanno un valore di leasing in pancia in questo momento maggiore al milione il problema è che il leasing è trattato nei due ordinamenti contabili in maniera molto diversa pur essendo l'Italia e la Spagna due paesi che fanno parte dell'Unione Europea cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso dell'Italia la locazione finanziaria come sapete bene di regola non viene riportata dal punto di vista del debito nel passivo dell'impresa né il bene in leasing, il bene locato nell'attivo ma vengono riportate all'interno della nota integrativa in una sezione ben definita nel caso spagnolo invece anche se si tratta di un'azienda che non adotta l'IAS o l'IFRS oggi quella posta è sempre compresa nel passivo allora capite bene che se io sono un operatore che si rivolge a voi per fornire uno strumento per fare targeting devo fare o faccio una scelta a monte quindi decido io di andare a parificare i dati andare a renderli omogenei quindi toglierò il leasing dall'azienda spagnola per renderla comparabile a quella italiana o viceversa lo aggiungerò nei bilanci di quella italiana se possibile per renderla comparabile a quella spagnola oppure se non vi forniscono informazione esatta su come agiscono i filtri su quali sono le logiche contabili a monte se voi non le conoscete il risultato purtroppo è un targeting povero che rischia di farvi perdere una serie di imprese che invece magari hanno un leasing e quindi sfuggono alle maglie della rete che state tentando di testere quindi questo è un punto di debolezza a me molto diffuso il consiglio è di formare i vostri analisti di formarvi su quali sono queste regole contabili che esistono non solo tra un paese e l'altro come nell'esempio ma anche all'interno dello stesso paese quindi per esempio in Italia nel 2016 c'è stata una riforma dei bilanci che per esempio ha tolto la gestione straordinaria allora se io ero abituato a fare targeting utilizzando anche le poste straordinarie ho avuto un problema quindi si cerca di compensare con degli schemi che continuano ad includere questo tipo di voci per cui conoscere bene le logiche contabili dei bilanci che stanno alla base del targeting quindi i filtri che voi lanciate alla fine vanno ad agire o su un dato di bilancio originale in Italia abbiamo diverse tipologie di bilanci civilistiche oppure su degli schemi riclassificati terzo elemento importante poi vediamo anche qualche esempio naturalmente conoscere il modello di analisi dello strumento utilizzato quindi in modello di analisi intendiamo quali sono le logiche di riclassificazione e di gestione dei dati originali che mi fornisce la mia piattaforma spesso nel mondo dei private equity si fanno i target e le query vengono gestite utilizzando come parametri gli EBITDA quindi vado a cercare un'azienda che ha un EBITDA margin maggiore di X o magari in valore assoluto maggiore di un milione ecco sapete bene che l'EBITDA dico una cosa la palissiana non esiste nel bilancio civilistico ma è un calcolo che viene fatto che segue per carità delle logiche allora questo calcolo non è detto che debba sempre essere fatto nello stesso modo perché io non ne posso calcolare partendo da un bilancio civilistico quindi lo strumento che voi utilizzate per il targeting fa questo calcolo la voce A1 del bilancio civilistico quindi decido che il mio EBITDA al di sopra dal punto di vista dei ricavi ha solamente i ricavi che sono rigorosamente riconducibili all'attività operativa mentre la famosa voce A5 la metto sotto per cui quando chiederò alla mia piattaforma il mio database estrae in aziende che hanno l'EBITDA margin maggiore del 10% se questo è il caso io avrò un'estrazione dove l'EBITDA è calcolato solo tenendo conto della voce A1 dei ricavi viceversa ci potranno essere dei casi in cui anche la voce A5 pur essendo contabilmente una voce diciamo non rigorosamente operativa potrebbe essere considerata dall'operatore di private equity e dall'investitore una voce tutto sommato operativa e allora se non ho la possibilità di fare questi switch e di sapere soprattutto qual è la definizione che il mio fornitore di piattaforma di database mi dà anche qua rischio di arrivare ad una ad una errata elaborazione del mio target altro punto importante poi li sto annunciando ma poi li vediamo con qualche esempio nelle prossime slide che sono un po' più colorate di queste vi chiedo un po' di pazienza è quello di riuscire ad integrare il targeting nel workflow e questo è un po' legato al discorso iniziale alla fine il targeting è una tipologia di analisi ed elaborazione di dati finanziari e come tutte le elaborazioni va vissuta a mio avviso con un flusso un flusso di attività che sono svolte dalle persone che si va ad inserire in un contesto dove c'è qualcuno che vuole identificare delle target company che le vuole selezionare che le vuole analizzare che vuole fare una scrematura che le vuole contattare e poi alla fine vuole fare con alcune di esse un deal di acquisizione di diffusione o di cessione o altri tipi di operazioni di finanza straordinarie allora oggi la tecnologia ci permette di svolgere molte di queste attività all'interno di una stessa piattaforma Linux è un esempio ve lo dico in maniera molto piatta mi scuserete ma io all'interno della stessa piattaforma in questo caso Linux ho la possibilità di applicare i filtri selezionare le aziende e poi per esempio se devo fare un'analisi che ai miei tempi si faceva nel mondo dei paratequici cioè il profit pool per vedere come sono distribuiti tra vari operatori di un certo segmento ad esempio gli utili e le marginalità ecco che lo posso fare direttamente all'interno della piattaforma perché ho delle funzionalità che mi permettono di non solo esportare le mie famose 100 aziende e quindi crearmi la solita lista su Excel ma anche di andare ad aggregare secondo delle logiche di fare subito delle valutazioni comparate sul cluster su dei sottocluster che vado a ritagliare quindi potrò prendere 100 aziende dividerle in tre segmenti e vedere qual è il contributo che ne so io del flusso di cassa totale di ciascun segmento e se questo è magari sbilanciato in uno dei tre perché magari è quello che mi interessa ecco tutte queste attività inclusa poi l'attività di supporto al pitch e supporto alle presentazioni è gestita per cui c'è un risparmio di tempo oggettivamente importante noi abbiamo calcolato dal 50 al 70% perché una volta che faccio il targeting poi tutto quello che ne esce è immediatamente analizzabile presentabile manipolabile nel senso buono del termine cioè modificabile quindi soggetto ad approfondimenti all'interno della stessa piattaforma naturalmente se voglio posso anche seguire l'approccio tradizionale cioè mi esporto e le cose intelligenti le faccio su Excel questo ha dei vantaggi ma anche poi dei limiti di tempistiche che tutti voi naturalmente conoscete quinto punto e questo è legato anche alla oltre che alla ricchezza dei dati e alla tecnologia anche alla conoscenza dell'analista essere in grado di posizionare e di selezionare le imprese in base ai propri bisogni questa guardate è una attività importantissima significa crearsi una mappa mentale qualcuno se la scrive anche di quali sono delle grandezze finanziarie o incroci di grandezze finanziarie che rivelano alcuni bisogni faccio un esempio mi viene facile perché è legato al mondo bancario quindi sono libero di esprimermi dato che questo webinar è dedicato soprattutto invece al mondo dei propri equity nel mondo banche è possibile fare un targeting se sono una banca che è interessata a intercettare aziende per i finanziamenti a medio lungo termine ci sono dei filtri degli incrochi di filtri che mi rivelano non solo quali sono le aziende che hanno bisogno di medio lungo termine ma anche se queste aziende sono in grado di reggere e in che misura nuovi finanziamenti a medio lungo termine quindi ci saranno dei filtri ad esempio che mi vanno a prendere sto inventando il cash flow da investimenti ricalcolato quindi se tiro fuori dalla regione Lombardia in un certo codice a teco le aziende che hanno investito cassa sto parlando almeno un milione di euro in investimenti a medio lungo termine quello è una prima proxy se addirittura queste aziende hanno un cash flow operativo che non copre totalmente gli investimenti e quindi hanno anche dei mutui già in essere e stanno magari crescendo capite bene che l'incrocio di questi quattro semplici requisiti insomma mi rivela già una buona parte del profilo del mio assassino perché mi dice che probabilmente quelle imprese sono interessate a un medio lungo termine poi potrò raggiungere nella seconda parte della query anche degli elementi che vanno invece a guardare non tanto il bisogno ma anche la sostenibilità del bisogno perché non voglio andare se sono a banca da un'azienda che ha bisogno di finanziamenti ma che non li può reggere e qua è un po' più facile perché utilizzerò i classici indicatori ad esempio il rapporto tra la posizione finanziaria e le bidda oppure tra la posizione finanziaria e i flussi di cassa la contenibilità nel conto economico di nuovi oneri finanziari eccetera 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 ecco fare target vuol dire capire quali sono gli incroci di questi indicatori crearmi e questo è un punto fondamentale in questo lo vediamo degli algoritmi miei perché noi possiamo aiutarvi nel creare gli algoritmi nel mettere a disposizione centinaia migliaia di indicatori ma difficilmente saremmo in grado di dirvi qual è il mix il cocktail giusto degli indicatori che fa il caso vostro ecco che la piattaforma mi consente di creare questo mix di testarlo sul campo e di andare poi a fare un fine tuning che è molto molto interessante quello è applicare la vostra conoscenza specifica al target infine questo è abbastanza scontato ma importante la possibilità di poter incrociare dati elementi eterogenei quindi se parliamo di un'azienda dati calcolati sul bilancio originale con dati invece che sono frutto di elaborazioni con dati qualitativi dati quantitativi per cui di diverso tipo adesso vediamo qualche esempio che riprende un pochino questi ingredienti e chiaramente poi scrivetemi domande se ve ne sono allora uno era incrociare filtri e parametri diversi quello che vedete è una così un abstract una schermata di linus in questo caso dove abbiamo fatto una simulazione cercando di così mettere in evidenza l'eterogeneità dei parametri che sono applicabili nella fase nella fase di target quindi questi parametri in alto a sinistra vanno ad agire su un database di circa 400.000 imprese linus ricordo ha diverse configurazioni in quella base abbiamo insomma inserito in database le aziende che fa da meno mezzo milione di ricavi e quindi su quelle vado a effettuare il filtro ho scelto come primo parametro l'annualità quindi ho deciso di applicare i parametri dell'anno 2018 lo vedete lì in alto vedete poi un filtro in bianco questo perché era un po' troppo micragnoso diciamo ma avrei potuto addirittura chiedere alla piattaforma di identificarmi nell'ambito del 2018 delle situazioni un po' particolari ad esempio le aziende sì con bilancio 2018 ma con chiusura contabile a giugno piuttosto che a settembre piuttosto che infranuale perché magari so che sono quelle legate al mondo estero sono quelle legate per esempio al settore alberghiero adesso è interessante ahimè nell'epoca post-covid andare a identificare quindi posso sofisticare in maniera molto importante questo tipo di anche la semplice annualità poi primo elemento la tipologia dei bilanci insomma questo è un elemento che spesso è più importante dei numeri che sono contenuti nei bilanci e lo vedo veramente di rado utilizzato questo è un po' un dispiacere che abbiamo ma vediamo anche la soluzione cioè applicare i filtri che vado poi a smocciolare in piattaforma a certe tipologie di bilanci quindi se io sto facendo un'analisi dove è importante avere un dettaglio anche nei filtri difficilmente potrò includere nella mia analisi i bilanci delle micro imprese quello mi sembra di sotto i 300 mila euro perché insomma quel bilancio è un bilancio molto scarro dal punto di vista della ricchezza informativa viceversa se guardo un bilancio ordinario però una ricchezza informativa un valore informativo più elevato e di conseguenza i filtri e le elaborazioni che possono essere applicate sono maggiori ecco queste riflessioni vengono fatte molto di rado si tende ad andare direttamente per i cavi maggiore di utile minore di e poi insomma questo ha un impatto negativo sul mio target addirittura nell'esempio di prima se devo fare profit pool o analizzare dei segmenti io avrò dei casi sono circa 5.000 ma ci sono su un milione di bilanci depositati in Italia in cui per lo stesso codice fiscale per la stessa azienda ho sia il bilancio ordinario che quello consolidato quindi in questi casi potrei ad esempio come ho inserito nel filtro decidere che qualora fossero presenti entrambi i bilanci lasciami quello ordinario non considerare consolidato perché se poi aggrego le imprese rischio di sommare due volte la stessa impresa lo stesso business e quindi avere una visione falsata di quanto può valere un settore o un segmento di mercato scusate poi abbiamo una serie di filtri abbastanza standard quindi in questo caso ricavi ho messo maggiore di 2 milioni filtri un po' più complessi posizione finanziaria netta su EBITDA qua abbiamo un minore di 3 va al punto di prima inseriamo un filtro non possiamo inserire questo filtro in Linux o in qualunque altra piattaforma a mio avviso se prima non abbiamo ben chiaro quella piattaforma quindi Linux o qualche altra piattaforma come calcola la posizione finanziaria netta e come calcola l'EBITDA altrimenti si rischia di incorrere nell'errore grossolano della profilazione così approssimativa poi una serie di elementi esemplificativi ad esempio l'elemento geografico l'Inus permette di passare dalla nazione fino ad arrivare al singolo K quindi scusate possiamo fare targeting per singolo codice impostale per comune per provincia per regione per area geografica o per somma di K area geografica geografica e comune Ateco state attenti perché ho in servo una piccola sorpresa dopo sui codici Ateco che è legata anche al questionario che avete risposto quindi posso decidere di includere o di escludere determinate industrie determinati settori di attività in linea quindi con i miei criteri di ricerca con i miei criteri di investimento teniamolo lì per un secondo l'Ateco perché c'è poi una sorpresa andiamo ad aggiungere poi elementi di crescita in questo caso abbiamo messo variazione dei ricavi del 10% abbiamo potuto mettere variazione degli investimenti oppure dei finanziamenti o di altre tipologie arriva il nostro mitico EBITDA margin so che nel mondo di private equity siete particolarmente affezionati a questo questo indicatore anche se è un altro indicatore di quelli da prendere molto con con le pinze per il rischio di falsi e positivi numero dipendenti elemento non contabile ma che magari mi rivela delle informazioni sul profilo dell'azienda la business information la utilizziamo in questo modo cioè andiamo a utilizzarla perché per esempio non voglio avere così come risultati delle aziende che siano nel ben mezzo di un concordato preventivo o di una procedura fallimentare se magari sono un fondo che si occupo di tornerà io invece vado a cercare esattamente quelle per cui avrò un elemento un approccio opposto livello di rischio qua la posso stimare in tanti modi noi abbiamo diversi score lì ho messo Altman perché insomma lo conoscono un po' tutti quindi vado a scremare anche le aziende che magari hanno un rischio calcolato con indicatori automatici che sappiamo hanno benefici e difetti di un certo tipo ed ecco qua ho incrociato una serie di elementi tenete conto che dentro Linux abbiamo circa 300 singoli elementi che possono essere incrociati e il valore aggiunto che fornite voi quando eseguite questa operazione è trovare la ricetta la ricetta giusta che poi vi salvate e diventa una ricetta solo ad uso e consumo vostro quindi questo è un primo assaggio di cosa intendiamo per fare attività di targeting abbiamo parlato dell'aggiornamento dei dati quindi vado un po' in ordine sparso oggi quindi oggi vuol dire stamattina alle sette e mezza quando a me mi sono posto a così completare la presentazione abbiamo circa 43 mila imprese con bilanci 2019 disponibili all'interno della piattaforma quindi questo insomma per noi è molto è molto importante cerchiamo di aggiornare il più possibile il database con i flussi che arrivano dal registro dell'impresa ok capacità di mischiare parametri originali e parametri elaborati e questo è un altro elemento molto importante cosa vuol dire vuol dire che se io prendo le mie 40 mila aziende che abbiamo appena visto quindi per le quali abbiamo disponibili i dati del 2019 e inserisco una semplicissima query dove dico valore della produzione maggiore di 10 milioni sapete che il valore della produzione è un elemento del bilancio civilistico quindi fa parte della tassonomia italiana dei miei bilanci ok allora ne ho 7 mila come risultato se invece anziché utilizzare il valore della produzione utilizzo i ricavi non modificando la soglia quindi restando sempre sui 10 milioni ecco che arrivo a 6.800 poi non sembra una differenza rilevante però magari no in quelle 200 300 imprese ci sono dei target interessanti che rischio di perdere allora torniamo ancora al discorso iniziale cioè conoscere bene la struttura originale dei dati di un singolo paese sapere addirittura cosa c'è dentro non dico che dobbiate diventare dei ragionieri commercialisti tutti no però avere anche una conoscenza importante di cosa c'è nelle singole voci mi permette di scegliere in modo migliore quello che poi vado ai parametri che vado ad applicare per il mio insomma per il mio target altro esempio di di parametri originali versus parametri elaborati e questo è un po' una provocazione che vi dico per svegliarvi dopo questa introduzione un po' lunga è l'ebida margin l'ebida margin io delle mie 40.000 imprese 2019 ne ho 6.200 che hanno un'ebida margin maggiore del 20% quindi generalmente gli investitori ricercano ebida margin elevati perché ebbè perché l'ebida margin è una proxy non sempre confermata di flussi di cassa e chi investe non vuole comprarsi i muri vuole comprarsi dei flussi di cassa che possibilmente vengano mantenuti se però anziché usare la proxy visto che l'inus permette di fare questo poi vi racconto come lo facciamo anche sul targeting utilizziamo i flussi di cassa e allora vediamo che la musica cambia la musica cambia perché le aziende dello stesso diciamo così dello stesso perimetro quindi con i bilanci 2019 presenti che hanno un cash flow operativo su ricavi in percentuale maggiore del 20% sono 4.600 guarda caso ne abbiamo perse per strada 2.000 allora capite bene che c'è dietro un ragionamento e un'elaborazione importante che devono essere compresi dall'utente l'ebitda nel caso di linus viene calcolato addirittura per difetto nel senso che linus se non riceve istruzioni differenti lo calcola inserendo sopra l'ebitda la sola voce a uno dei ricavi quindi un ebitda prudenziale abbiamo visto che molte piattaforme questa è proprio una scelta inseriscono di default anche la voce a 5 nel calco dell'ebitda secondo noi è un'approssimazione rischiosa non dico sbagliata perché tutte le approssimazioni sono sbagliate ma personalmente preferisco sbagliare per difetto che sbagliare per eccesso generalmente l'analista dovrebbe avere un approccio prudenziale nel target anche perché se ne includo troppe rischio di fare anche troppo lavoro dopo di elaborazione di scremature invece il cash flow operativo sui ricavi presuppone che l'inus dietro talcoli cash flow quindi devo capire qual è quel cash flow lì vi anticipo ma poi lo vediamo più approfonditamente da qualche minuto che non si tratta del flusso di cassa depositato sapete che esistono una serie di casistiche di bilanci dove l'azienda è tenuta a depositare il rendiconto finanziario ok potrei usare quel rendiconto finanziario per fare per fare anche il targeting ma ci sono dei limiti che adesso andiamo a vedere che non vi anticipo e quindi quello è un flusso di cassa che viene calcolato dalla piattaforma per cui l'idea è che se un'azienda avesse no azzerasse teoricamente i tempi di incasso da clienti pagasse immediatamente i fornitori non avesse in magazzino teoricamente l'ebitda margin dovrebbe essere molto simile addirittura identico al cash flow operativo quando non è così ci sono delle spiegazioni che non sono necessariamente brutte per carità in mezzo ma che vanno vanno comprese quindi sono nel targeting vedete già il tipo di profondità di riflessione di analisi che sto apportando quindi io sto cercando di discortarmi il più possibile e lo dichiaro dal classico approccio di faccio i filtri e butto su Excel perché quell'approccio lì vi fa perdere un sacco di qualità per strada allora conosce il modello di analisi non vuol dire nemmeno diventare esperti di Linux così come non vuol dire diventare esperti di ragionieri commercialisti semplicemente avere un'infarinatura che vi spiega quello che stiamo vedendo ovvero che quando faccio i filtri ma anche quando non li faccio quindi quando analizzo una singola azienda nel nostro caso Linux prende un bilancio civilistico guardate il civilistico e lo riconduce a delle voci riclassificate quindi io utilizzo degli schemi riclassificati di atterraggio che sono riorganizzazioni del bilancio civilistico perché quegli schemi sono più funzionali più efficienti ed efficaci per la mia attività di targeting e di analisi dell'azienda quindi il Linux è sempre tracciabile quali voci degli schemi originali vengono riclassificati in quali voci degli schemi di destinazione una volta che mi sono chiare queste logiche qua poi diventerò molto più efficace nel targeting vedo nel frattempo qualche domanda quindi vediamo se riesco a dare qualche risposta anche allora ok allora una domanda è se voglio filtrare escludendo la 5 come si fa e ci sono dei filtri che permettono di fare questo nel senso che io ho diversi tipi di filtri utilizzabili se ragiono sugli schemi riclassificati so che nei ricavi è già esclusa la voce a 5 quindi in parte penso di avere già risposto poi ho degli schemi all'interno del conto economico Linux che sono oneri e ricavi diversi di gestione dove invece ho inserito la voce la voce a 5 quindi posso giocare con queste voci per fare come richiede mi viene chiesto poi da Andrea Linux nelle sue riclassifiche calcola il valore della produzione il valore della produzione è un valore che viene pescato nel caso del bilancio civilistico dagli schemi originali quindi dal bilancio originali e quindi confermo che può essere utilizzato come filtro che è una cosa che abbiamo appena visto mi viene chiesto poi da Jimmy che saluto molti parametri per cui il cash flow operativo su ricavi sono altamente variabili di anno in anno c'è modo di filtrare un trend per esempio media degli ultimi tre anni di cash flow operativo su ricavi maggiore di un certo numero allora è possibile incrociare delle query che faccio sul singolo anno però nella versione di Linux Premium posso fare questo quindi potrò fare la stessa query per tre anni consecutivi quindi andare a come dire creare un gruppo di aziende che risponde ad una certa query quindi tiro fuori le aziende che hanno cash flow operativo su ricai maggiore del 20% e l'aggrego con i dati 2018 poi prendo quell'aggregato e lo rifilto sul 2017 e poi lo rifilto sul 2016 quindi avrò alla fine come risultato le aziende che in quei tre anni li hanno rispettato questo parametro ci sono poi delle altre versioni dove è anche possibile andare con le corporate andare a personalizzare gli indicatori quindi parametri di filtro per esempio introducendo delle medie o addirittura degli indicatori che non ci sono perché non possiamo veramente prevederli tutti ma è così utilizzando quelli che ci chiede che ci chiede come dire il cliente allora Emily mi chiede invece se le tipologie di analisi sono disponibili solo per società italiane e se per la PFN non si affetta l'aggiustamento per il leasing allora bella domanda la prima parte quindi le tipologie di analisi dipende dal database per cui diciamo che il database che stiamo utilizzando adesso per questa demo è il database delle società italiane poi è possibile andare a personalizzare il database quindi per esempio Linux è in grado di elaborare diciamo dati contabili che hanno un formato di qualsiasi paese del mondo quindi già i dati spagnoli per esempio vengono elaborati automaticamente quegli ungheresi sono in fase di introduzione ho delle procedure addirittura questo è interessante me l'ho dimenticato e chiedo perdono posso confrontare delle aziende fare un benchmark che fa un po' parte anche dell'attività della parte finale del targeting tra aziende che hanno bilanci completamente diversi tra di loro perché magari il mio target è un'azienda italiana del settore tessile che ha un concorrente in Bulgaria uno in Russia e uno dall'altra parte del mondo quindi io posso ci sono delle procedure che ora non approfondiamo naturalmente per caricare all'interno di un'area riservata di Linux queste aziende andare a fare quindi il confronto per quanto riguarda la PFN diciamo che Linux di base non va ad aggiustare a fare l'aggiustamento per i leasing ma prende il dato originale però è possibile per singola azienda andare a prendersi il dato della nota integrativa fare l'aggiustamento c'è una procedura indicata nel manuale online di Linux quindi se non ricordo male è sotto la voce IFRS 16 che è la procedura in questione quindi posso fare quel tipo di aggiustamento e quindi rifare il confronto è collegato a questa domanda che è molto interessante di Emily vi ricordo anche che Linux ha due grandi aree di lavoro e questo non l'ho detto colpevole un'area pubblica dove io posso filtrare fare targeting ma non posso andare a modificare il dato originale c'è poi un'area privata dove io posso prendere le aziende magari prefiltrate in area pubblica le porto in area privata in area riservata e lì invece posso andare ad aggiungere delle informazioni che non c'era nell'area pubblica quindi ad esempio se di un'azienda ho il bilancio il bilancino a 30 giugno 2020 è chiaro che non lo posso usare con l'informazione il targeting in area pubblica perché quel dato non ce l'ha ancora registro imprese ce l'ha solo l'azienda ma se io sono un investitore e mi sto avvicinando a quell'azienda posso prendere quel dato e anziché perdere le notti su Excel lo posso andare a caricare su Linux lo posso analizzare aggiungendolo ai dati da fonte dati pubblica nella mia area riservata ok così come posso una riservata fare diciamo le rettifiche le adjustment a cui fa riferimento Emily bene bellissime domande grazie fatene altre io intanto vado avanti lo schema questo è un esempio non state lì non spaventate ma lo schema che noi utilizziamo per l'elaborazione è quello che vedete quindi Linux parte da un bilancio civilistico crea degli schemi riclassificati le voci del riclassificato che stiamo vedendo sono un esempio delle tante che sono presenti lì vediamo una parte dell'attivo Linux quindi l'attivo Linux meglio gli impieghi Linux sono gestiti nel modo che state vedendo quindi mi troverò le immobilizzazioni materiali materiali finanziarie il fondo ammortamento lo vedrò uguale a zero non perché non ci siano fondi ammortamenti ma perché nel bilancio civilistico gli importi sono già netti degli ammortamenti poi vedete che Linux pone un'enfasi particolare sul capitale circolante e quindi i debiti verso fornitori quel meno 233 mila mi riporta col segno meno nell'attivo perché vuole evidenziare il capitale circolante circolante caratteristico 303 mila euro perché vi faccio vedere questo schema perché poi le stesse voci che vedete nell'analisi della singola azienda di là sono delle voci che posso usare come filtro quindi posso dire al database Linux tirami fuori le aziende che hanno un capitale circolante caratteristico maggiore di zero e un capitale circolante non caratteristico minore di zero perché secondo me no diciamo la combinazione di questi due criteri mi dà gli elementi interessanti per fare il mio target quindi se non conosco queste schematizzazioni poi sarò molto poco efficace e starò lì no a girare un pochino vuoto sul valore della produzione sugli utili sugli debiti mentre così si può fare una profilazione estremamente più più sofisticata più puntuali ok andiamo andiamo avanti ecco poi ci sono dei dettagli anche di come Linux Calcola rende conto finanziario e questo è molto importante perché abbiamo detto prima che il targeting soprattutto per chi si occupa di investimenti non può non tenere conto della cassa e questo è un bisogno che voi avete il limite che il mercato invece ha il mercato inteso come il mercato dei bilanci e che purtroppo sono pochissimi bilanci per cui c'è il rendiconto finanziario disponibile quindi Linux lo va a ricalcolare anche su questo poi approfondiamo andiamo avanti quindi prendiamo una cosa un po' più leggera che vorrei gestire così un po' provocatoriamente ma a fin di bene no allora nel questionario che avete compilato c'era la domanda no quali sono le utilità del codice ATECO nell'attività di target perché non c'è un cliente con cui io parli che non mi chiede all'inizio ma i vostri filtri comprendono anche l'ATECO e dico sì li comprende no però un po' mi demoralizzo quando mi fanno questa domanda perché è vero che è importante ma sapete bene che ci sono tutta una serie di problematiche legate allora la maggior parte di voi diciamo ha risposto dicendo che gli ATECO indicano imprese che svolgono la stessa attività intuitivamente potrebbe essere vero poi se prendiamo per esempio riprendo un esempio che ha fatto il nostro collega Vincenzo Perrone in un recente webinar all'Italia Ryanair fanno la stessa attività lascio un pochino a voi la risposta forse fanno la stessa macroattività o partengono allo stesso macro settore hanno lo stesso modello di business e questo fatemi dire è addirittura più importante dell'attività perché abbiamo attività con la stessa codifica ma con dei modelli di business diversi come si fa a intuire il modello di business dei numeri anche questo lo vediamo a brevissimo stesse dinamiche macroeconomiche tema toccatissimo adesso nell'epoca della Covid dove si fanno si calcano gli impatti del del Covid utilizzando gli Ateco quindi pensando che i microsettori che sono 120 hanno diviso l'Italia in 120 microsettori abbiano le stesse dinamiche macroeconomiche in realtà no perché all'interno del stesso settore abbiamo delle divergenze incredibili di numeri di situazioni di partenze quindi anche lì stare attento a dire che l'Ateco per forza mi va a indicare settori con le stesse dinamiche macroeconomiche imprese concorrenti io direi imprese potenzialmente concorrenti anche se poi l'analisi della concorrenza se voi andate fate questo esercizio prendete l'Inus o un altro database selezionate 20 imprese con lo stesso identico Ateco poi andate da uno di quei 20 imprenditori chiedete se le altre 19 sono concorrenti io scommetto che in 17 casi su 20 vi dirà che non le conosce nemmeno quindi questo fa veramente riflettere ed è un'attività che nel target rischia di portarmi sempre fuori strada stessa tipologia di clienti fornitori 0% dei casi è abbastanza vero è difficile capire chi sono i clienti fornitori non nominativamente ma come tipologia è anche vero che in certi casi posso giocare sui tempi di incasso cioè con l'Inus per esempio posso dire tirami fuori di questo codice Ateco in questa regione su queste storie dimensionali le aziende che incassano a meno di 10 giorni se un'azienda incassa a meno di 10 giorni insomma è probabile che sia un'azienda che opera col mercato retail e magari non opera col mercato business to business quindi qualche trucco noi ve lo insegniamo anche poi nell'utilizzare i filtri però dire che la Ateco identifica anche quello sono concorde con la vostra non scelta di questa opzione capire se le aziende sono industrie piuttosto che commerciali qua invece un 11% dice di sì e un sì è corretto perché corretto in parte che gli Ateco hanno una definizione industriale e commerciale ma poi ci sono delle problematiche allora approfondiamo proprio questa tematica qua io ho preso codice Ateco.it e mi sono preso perché per ragioni di un mio passato anche professionale le aziende operanti nel 13.2 quindi di tessitura ok che in Italia sappiamo un settore molto molto importante aziende produttive vedete la categoria la macro categoria la C attività manifatturiere quindi non vado a prendere dei distributori non sto prendendo in base alla Ateco dei distributori sto prendendo dei produttori di che cosa dei tessitori quindi un aspetto delle aziende che compri un del filo e con dei bellissimi telai lo vadano a tessere ok bene allora ho fatto girare questa questa query semplicissima sui dati 2019 quindi abbiamo pochi risultati ma ma aggiornati e sui dati su quelle 40.000 imprese ne abbiamo in questo momento 113 che hanno esattamente il codice 132 poi potete andare a vedere il 13 quante sono 1321 va bene io mi sono fermato all'132 naturalmente sono la target sono i nostri target quindi in base a quello che abbiamo visto sulla Ateco questa è la domanda che vi fate voi quando giocate con il database allora Linux permette di creare dei gruppi con le aziende target quindi con le 113 imprese le abbiamo raggruppate e siamo andati poi dopo a fare un backtesting a rileggerle va bene naturalmente in base alla codifica Ateco è chiaro che sono tutte 113 tessitura perché questo era un criterio di scelta ci sono anche in base alle altre codifiche chiavi di lettura quindi quella internazionale la SIC le classifica tutte come manufacturing broad-woven fabric mills scotton eccetera eccetera il RAE ne identifica uno con un sottocodice diverso il NACI le identifica in maniera così omogenea tutti i codici diffusi a livello nazionale internazionale anche questi codici sembra confermare che sono tardi in realtà mi è scappata mi è scappata una slide io posso leggere le mie 113 aziende guardando il modello di business e torno al punto di prima come faccio a capire qual è il modello di business allora Linus lo vedete lì in alto a destra da cerca di dare una serie di letture trasversali quindi non informazioni ma elaborazioni qualitative che permettono di migliorare il targeting ad esempio lo vedete nella tabellina lì in alto a destra in una prima approssimazione va a fare un carotaggio della struttura di costo di una certa azienda indipendentemente dal codice ATECO e va a fare un carotaggio di quanto ad esempio impattano le mie materie prime o quindi il valore aggiunto dal punto di vista percentuale sul conto economico è chiaro che una trading company una trading company è un'azienda che ha poco personale quindi difficilmente va alla struttura di costi di un'azienda manifatturiera e una trading company sarà un'azienda che compra insomma magari compra già il tessuto ci mettono ci ricano un marchio sopra e lo rivende quindi il valore aggiunto è veramente basso ok voi vedete che all'interno delle mie 113 aziende teoricamente tutte produttrici quindi tutti i tessitori in realtà ne ho una che addirittura ha un modello di business inteso in questo senso da trading company 8 che hanno un modello di business da aziende di servizio quindi con un'incidenza dei consumi sui ricavi inferiore uguale al 20% e addirittura 14 che hanno mantenuto la codifica teco ma che hanno variato questa struttura dei costi o l'impatto delle loro materie prime e valore aggiunto sul conto economico allora queste non sono informazioni che sono inserite nel bilancio sono delle elaborazioni che voi potete utilizzare nei filtri linus cioè io posso prendere un gruppo prendere la stessa codifica teco e all'interno del gruppo per essere sicuro che siano tutti i tessitori anche che sembrino tessitori non solo che abbiano scusate che siano tessitori non solo che hanno il vestito dei tessitori che è la teco vado a selezionare solo le 90 che sono industria perché magari le altre cosa succede? succede che erano industriali vere poi arriva la concorrenza no della mano d'opera a basso costo dal Pakistan iniziano a delocalizzare una fase produttiva nel delocalizzare un'altra non cambiano il codice a teco che voi usate per fare targeting e quindi voi pensate di avere di fronte un tessitore in realtà avete di fronte un negozio tessile uno spaccio tessile qualcuno che vende tessuti che è una roba diversa quindi perdete tempo e ve ne accorgete quando guardate il sito magari eccetera 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 questo è un esempio no di come è possibile andare ad approfondire anche il modello il modello di business quindi dinamiche macroeconomiche era un altro punto legato al questionario sulla teco questo è sempre la lettura delle mie 113 aziende stesso a teco guardate qua se abbiamo le stesse dinamiche macroeconomiche cioè ne abbiamo guardate in alto a sinistra poi lo vedete meglio quando vi mandiamo le slide però le aziende qua sono segmentate in base alla crescita asse orizzontale e in base al rischio asse verticale cioè vedete che ho no cioè come una manciata di sabbia tirata in aria non ho un percorso definito quindi non posso dire che la teco identifichi delle dinamiche macroeconomiche per cui attenzione quando lo usiamo per calcolare me fa un po' paura sta cosa con gli impatti del coronavirus sui settori peggio ancora se lo usate nel target in maniera indiscriminata questa è la distribuzione degli EBITDA in questo codice a teco cioè guardate qua ho degli EBITDA per esempio nella fascia 1.5 il più basso del meno 38% e il più alto del 64% ma anche nella fascia che uno dice sì però Carrara questa cosa succede solo nelle aziende piccole non è vero nella fascia c'è oltre 150 milioni di ricavi o le EBITDA minore 1.15% e il maggiore 17-8% quindi attenzione ai codici a teco usiamoli solo se siamo sicurissimi o comunque incrociamoli con altri indicatori che guardano il modello di business la dinamica macroeconomica eccetera 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 bene allora io volevo fare così nelle 15 minuti che ci restano un approfondimento sugli aspetti legati alla cassa perché mi sembrava poco carino essendo rivolto questo webinar agli investitori e al mondo del private equity non andare a trattare questo argomento perché è il più importante abbiamo detto che l'investitore compra dei flussi di cassa allora cerco di declinarlo in ottica di targeting non di analisi di business plan questa è una cosa che vediamo magari in un'altra sedia e parto dalla domanda del questionario è possibile selezionare imprese da un database di bilanci pubblici utilizzando come criteri le voci di dettaglio dei flussi di cassa ad esempio cash flow da capitale circolante e operativo domandina assolutamente non banale la risposta maggioritaria e quella arancione è stata solo per i bilanci ordinari avete perso un caffè mi dispiace poi c'è una risposta che dice solo per i bilanci consolidati poi per i bilanci ordinari e alcune tipologie di bilanci abbreviati quindi questa è la risposta migliore per cui si manifestano quelli che hanno risposto al questionario in questo modo perché hanno vinto un premio e infine solo per i bilanci abbreviati naturalmente questa è una risposta sbagliata allora perché è importante capire questo cioè è importante capire che solo per gli ordinari e alcune tipologie di abbreviati è possibile gestire la cassa perché se so questo poi migliora la mia attività di targeting due numeri in croce in Italia il rendiconto finanziario che noi vogliamo usare per fare attività di targeting perché guardiamo la cassa alla fine della fiera è obbligatorio grosso modo per circa il 20% dei bilanci quindi vuol dire che se io intendo fare un targeting su tutte le aziende italiane non solo quelle maggiore di mezzo milione che abbiamo dentro tutto il milione di aziende italiane di bilanci pubblici insomma ne ho 200.000 tutte le altre le devo lasciare stare e quelle che devo lasciare stare spesso sono aziende medie ok medie e che sono aziende molto molto interessanti quindi è un peccato dovrei lasciare stare allora cosa faccio allora quello che faccio è capire che innanzitutto forse il targeting sulla cassa non lo vado a fare su quel 20% di rendiconti finanziari depositati perché questi seguono uno schema dell'OIC10 mi sembra contabile ma hanno dei limiti perché sono spesso non confrontabili e secondo perché se io voglio fare un targeting su tutte le aziende insomma mi devo limitare al 20% quindi ovviamente quello sarà un criterio di targeting è probabilmente poco poco completo diciamo allora qua abbiamo un confronto fra due rendiconti finanziari depositati che non hanno le stesse righe quindi sono diversi la soluzione che andiamo ad adottare è questa primo targeting quante sono nel database linus in questo caso ma con le proporzioni le potete fare su tutto il mondo d'Italia le aziende per le quali linus in grado di ricalcolare il flusso di cassa sono il 50% non il 20% quindi ho un 20% di aziende per le quali già in origine il rendiconto finanziario è disponibile ma ne ho un 50% per le quali lo posso ricalcolare allora tutta la vita noi consigliamo di usare degli schemi di rendiconto finanziario ricalcolati vuol dire che il software mentre io faccio il filtro gli dico tirami fuori le aziende le lombarde che hanno un cash flow operativo maggiore di un milione lui sta prendendo tutti i bilanci su cui può fare questo calcolo perché in alcuni casi non lo può fare le micro imprese non può fare questo calcolo sta prendendo questi bilanci e mi sta calcolando in tempo reale per ognuno di questi bilanci quanta monta il cash flow operativo e poi se io voglio mettere una soglia quindi una gioia di un milione me la va naturalmente ad utilizzare quella soglia lì questo in più mi permette di confrontare anche rendiconti finanziari diversi tra loro ok quindi mi permette di confrontare rendiconti finanziari di aziende che l'hanno depositato con quelle di aziende che non l'hanno depositato ok questo che vediamo è un esempio di confronto fra tre rendiconti finanziari costruiti su tre bilanci diversi torno al punto iniziale a questionare su cui pochi di voi hanno risposto in maniera corretta cioè rendiconto finanziario di tre aziende una calcolata sul bilancio ordinario l'altra col bilancio abbreviato l'altra addirittura sul bilancio estero un bilancio straniero ok che era la domanda se non sbaglio di emili che ho fatto pochi minuti fa lo schema di destinazione è lo stesso ogni voce di questo schema è anche una voce di come dire di filtro su un mio database a questo punto personalizzato naturalmente no se io non avessi questa possibilità non potrei fare il confronto in questo modo su queste tre aziende ok nota nei bilanci abbreviati non è vero che non posso calcolare il mio conto finanziario non lo posso calcolare se quel bilancio abbreviato non ha nemmeno nella nota integrativa indicato in una tabella apposita il dettaglio dei debiti e dei crediti cioè ci sono tanti bilanci abbreviati dove ci ho scritto nel bilancio quindi nel prospetto contabile totale debiti un milione poi non mi dice quanti sono verso fornitori verso banche ecco con quell'informazione il cash flow non si può ripostruire però in alcuni di questi casi c'è in nota integrativa una tabella una simpatica tabella che invece dettaglia quell'importo l'inus cosa fa va a vedere allunga la manina e va a vedere quella tabella lì se la trova prende i valori e va ad aggiornare il prospetto contabile riclassificato con quei valori lì ergo quei valori diventano un elemento per fare targeting ok altrimenti non si può fare ecco quello che vedete poi perché ci interessa molto la cassa è a sinistra il rendiconto finanziario di una singola azienda e a destra nel mondo dei filtri di linus vediamo come gli stessi elementi del singolo cash flow sono anche elementi su cui posso costruire le mie query quindi potrò a questo punto incrociare dicendo dimmi quali sono le aziende lombardi del settore tessi in queste province che hanno debita maggiore del 20% ma che hanno anche il flow minore del 20% perché quelle le devo magari approfondire devo capire bene cosa è successo all'interno di queste aziende ok io concludo con un caso reale anche perché era come dire oggetto inserito nel questionario intanto se avete qualche domanda è il momento per scrivere perché siamo indirittura d'arrivo io voglio rispettare i tempi del webinar che scade alle 10 e mezza questo era un caso reale di profilazione e lo lasciamo alla fine perché spero se no vuol dire che ho lavorato male dopo la mia spiegazione di avervi trasmesso questi concetti allora sto andando a selezionare che tipo di azienda questa è una profilazione avanzata PMI industriali sane che necessitano di equiti o debito per finanziare gli investimenti PMI performanti economicamente ma non autosufficienti dal punto di vista della cassa operativa oppure PMI che impiegheranno almeno tre anni per azzerare la propria leva finanziaria non è facile profilare questo tipo di aziende abbiamo provato a farlo allora intanto abbiamo messo una storia dimensionale sui ricavi poi vedete che il secondo filtro vi ricordate il modello di business che abbiamo visto prima nei produttori tessile dice modello di business diverso da trader e service quindi anziché inserire gli Ateco vado a prendere delle aziende che sono aziende produttive ma non solo nella forum ma anche nella sostanza perché vado a fare il targeting sulla loro struttura dei costi e sull'impatto sul valore raggiunto nel conto economico per cui sono sicuro che sono aziende industriali poi vado a prendere il rendiconto finanziario aziende che investono quindi la voce del rendiconto finanziario cash flow da investimento che è stata ricostruita tramite Linus minore di meno un milione vuol dire che le aziende che lui mi deve far vedere come risultato devono avere investito in cassa cassa sonante anche se ricalcolata almeno un milione in impieghi a medio lungo termine questo è una proxy del bisogno che dicevamo prima ok variazione netta di cassa aziende che alla fine all'ultima riga del reddito del rendiconto finanziario ricostruito abbiano una diminuzione della liquidità quindi la liquidità sta in due punti nel rendiconto finanziario Linus all'inizio e alla fine quindi ho cassa iniziale tutto il flusso che mi dà la cassa finale riconciliato con il mio bellissimo bilancio ecco che sto chiedendo aziende che hanno avuto una diminuzione di cassa ok per questo può essere una proxy del fatto che ha investito insomma ha investito e magari ha bisogno di cassa però io voglio aziende che hanno bisogno di cassa per gli investimenti non per il capitale circolante allora introduco un altro elemento cassa operativo maggiore di zero quindi qua selezionerò le aziende che hanno investito cassa finale minore della cassa iniziale e che hanno prodotto cassa dal punto di vista del capitale circolante operativo quindi se avessi un cash flow del capitale circolante operativo negativo quello probabilmente è un target interessante per la banca che vuole vendere gli anticipi fatture gli anticipi degli ordini quindi che lavora sul circolante o sullo supply chain in questo caso no invece infine proxy della sostenibilità mi vado a prendere aziende che hanno un pfn su cash flow operativo minore di tre potevate mettere due perché siete più più cattivi di me naturalmente però giusto per inserire un parametro che abbia un minimo di senso abbiamo messo tre un EBITDA margin quindi cassa teorica maggiore del 15% ok infine ci mettiamo un pizzico di elemento di rischio in questo caso non usiamo lo z score ma usiamo il linus score ecco che il combinato disposto direbbero in parlamento di questi elementi mi tira fuori un profilo di aziende quali aziende ok la maggior parte di voi ha risposto dicendo PMI industriali ed è giusto industriali perché c'era l'elemento del modello di business sane insomma cash operativo score positivo e anche EBITDA positivo sono tutti indizi che portano a dire che l'azienda è abbastanza sana che necessitano di equiti o debito per finanziare gli investimenti ecco che il profilo che abbiamo fatto si avvicina ed è la risposta corretta al blu quindi a quel tipo di PMI per cui nel target io parto dalla definizione che è quella che mi danno i sottoscrittori gli investitori o che mi dà il singolo deal cerco aziende fatte in questo modo traducono quella definizione o quel profilo in elementi costruiscono l'algoritmo e grazie ai flussi di casse che sono ricostruiti lo posso fare in maniera molto sofisticata ho il mio risultato le altre risposte non sono clamorosamente sbagliate ma i caffè non se lo guadagnano perché diciamo che mancava l'elemento industriale era un po' una trappola che avevo così pensato di tenderli allora io avrei finito con la con la trattazione di oggi per cui Angelo che ringrazio mi scrive confermo i problemi con la codifica Teco soprattutto per il complesso settore agroalimentare poi c'è un mondo Angelo volendo possiamo naturalmente approfondire perché ci sono tipologie di bilanci diverse a volte i bilanci non ci sono vengono forniti dall'azienda agricola quindi in quel caso lì devo poter crearmi un database che per metà esiste già perché è un dato pubblico e per l'altra metà invece non esiste ma me lo devo creare io posto che ho i dati una volta che ho i dati li vado a caricare su Linux e quindi ho il mio database e gli posso applicare i filtri io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione spero di non avermi fatto annoiare troppo visto che fa anche caldo vi rimando al prossimo webinar che terrà il collega amico mitico Alessandro Fischetti dove si parla di credito la PMI per l'internazionalizzazione e non solo che si terrà il giorno 8 luglio alle 9 e un quarto scriveteci pure per eventuali approfondimenti sia sugli argomenti trattati che sulla piattaforma Linux una buona giornata e buon lavoro a tutti da Stefano Carrea che si parla di